Musica Abbiamo parlato di obiettivi, flessibilità, creatività, personal branding e creazione di reti. Musica Siamo riusciti a concentrarci soprattutto sul valore delle persone e su tutta una serie di attività che servono, che hanno come principale obiettivo la crescita individuale di tutta questa gente. Musica Bisogna imparare ad evolversi e capire che il modello con cui oggi bisogna lavorare in questo mercato così competitivo è decisamente diverso da quello di alcuni anni fa, non dico di 20 anni fa ma di 5 o di 3 anni fa. Musica Credo che nel 2015 sia fondamentale il rapporto con i professionisti dell'arbitare, ovvero gli architetti, di porsi come problem solver, ovvero risolvere i problemi che possono avere nell'edilizia. Musica Fiemme oggi nel 2015 presenta una nuova gamma di prodotti fatta di nuovi colori, nuove lavorazioni, nuove tendenze e soprattutto nuove forme con le quali si può rivestire con il pavimento in legno i vostri edifici, le vostre case. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.